Amici di SOS Rezzo TV, buona serata. Continuiamo a occuparci del progetto della realizzazione di una cava nel comune di Capolona. Nei giorni scorsi ce ne siamo occupati più volte, prima ascoltando la voce di alcuni residenti, poi ascoltando la replica del sindaco di Capolona, Mario Francesconi, che diceva che è vero, il comune di Capolona ha dato un primo parere favorevole. Adesso la pratica è in regione, ma poi doveva tornare al comune di Capolona che avrà l'ultima parola, quindi nulla è stato deciso. A questo punto, domenica, il comitato che è nato nella zona ha messo in campo una prima iniziativa, una passeggiata di protesta contro questo progetto. Dicono non vendiamo il nostro territorio a nessuno, questo progetto lo deturpa. Allora ascoltiamo le interviste realizzate con la collaborazione di Piero Franchini e di Fabrizio Ghigoni. Caro Galdani, da questa posizione privilegiata che guarda Suarezzo, veglia la Valle delle Piagge, un panorama stupendo, certamente non è solo una questione poi turistica, archeologica, ma qui ci sono anche delle aziende agroturistiche e agricole di un certo valore, di un certo livello che già da anni sono radicate e che hanno anche un successo nel loro campo. Cosa ne pensi? Penso che la lungimiranza dell'essere umano è sparita. Cioè nel senso si tende a fare immediatamente cassa per poi trovarsi come? Il turismo e l'ambiente può durare altri milioni di anni se tutto va bene e non lo sconquassiamo, va bene? Una cava può durare 50 anni perché non giochiamo sul metro quadro perché si fatte con 5.000 e si arriva a migliaia di metri quadrati perché il piano allusionale insomma parte dal castelluccio e arriva a venire a castelluccio i bucchi perché una volta iniziato il lavoro la prosecuzione è automatica e questo è il problema che preoccupa Pareggio perché se ha forse un bucchio nei 2.000 metri uno in qualche modo troverà il sistema, deve risistemarlo. Il problema è che una volta iniziato purtroppo non si finirà più. Non è una questione politica questa, è una questione di territorio. Quest'area non dovrebbe essere usata per farci una cava estrattiva, quest'area dovrebbe essere usata per fare un parco, un'area protetta. Qui ci sono, come vedete là, gente che va a cavallo, è bellissimo. Ci sono dei laghi naturali, ci sono dei luoghi che sono anche luoghi di passaggio per gli uccelli migratori. Ci sono gli aeroni, ci sono le cicogne, si fermano veramente tanti animali. È un'oasi naturale e questa non può essere usata come un'area estrattiva, assolutamente. Non siamo disposti a vendere questo territorio, bisogna preservarlo. Bene Deborah, allora siete comunque soddisfatti già della risposta dei concittadini, di tutti quelli che hanno dimostrato attenzione alla problematica? C'è un grande sostegno, siamo contenti e continuiamo la nostra, tra virgolette, battaglia. Non è una battaglia, perché non ce l'abbiamo con nessuno, non siamo soltanto disposti a vendere questo territorio. Allora, intanto il territorio è un bene comune, questo è chiaro. Non è solo un problema di chi c'è nato, di chi ci vive e di chi ha la casa e vuole avere la bella vista sulla valle. Questo è un bene comune, questa è proprietà veramente della nostra provincia, ma anche dell'umanità. Io voglio insistere, perché si parla di cose grandissime, progetti proposti da una ragazzina di 16 anni, Greta, alla quale si pensa di dare il premio Nobel, sono d'accordo, ma sembra un problema sempre che si vede alla televisione. Noi stiamo vivendo un dramma nella nostra zona, perché effettivamente è uno scempio. Si parla di cose che non si conoscono, si leggono carte e non si conoscono i territori. Io non voglio fare una battaglia politica, la nostra politica è qui sul terreno. Se si parla di politica parlo di polis, di piazza, di gente, di necessità che le persone stanno manifestando. Ci sono attività imprenditoriali di vario genere su questo territorio che insiste e grazie a questo territorio riescono ad avere una qualità della vita eccellente. La viabilità ad oggi nel nostro territorio, tra Castigliuffi, Bocchi, Arezzo, Ponte Buriano, Castelluccio, Pieve San Giovanni, tutte le frazioni che stanno... è massacrata in questo periodo. È un non senso pensare di fare, oltretutto, una cava con una viabilità devastata, con un Ponte Buriano da mantenere, preservare e tutelare. Non ci stiamo a queste logiche, non ci interessa un progresso proposto a questi termini. Il costo è troppo alto. L'amministrazione comunale di Capolona pensi a fare progetti e non a vendere il proprio territorio. Avete sentito dunque, i residenti sono sul piede di guerra. Il comitato farà di tutto, probabilmente, per scongiurare questo progetto. Continueremo a seguire questa vicenda in quelle che saranno le evoluzioni, ricordando che comunque c'è un iter, un iter che viene seguito in maniera legittima e che quindi, al di là di quelle che sono le proteste, poi ci sono delle istituzioni competenti che poi metteranno la parola a fine, in un senso o nell'altro, a questa vicenda. Grazie per averci seguito, ci vediamo domani.